Partenza senza troppi disagi per la fase 2 della ZTL cittadina che da ieri è entrata nel vivo con la chiusura alle auto di quattro nuovi varchi. Via del Sole, via Duomo Altezza di Piazzetta Filangeri, via Mirobalo Alpendino e via Santa Sofia, i punti di accesso al centro che saranno presidiati dagli agenti di polizia municipale fino all'installazione delle telecamere previste per la fine di marzo. Tutti i giorni dunque dalle 7 alle 18 il centro antico resta aperto solo agli scooter, ai disabili e con un passo a pagamento da richiedere all'apposito ufficio in Piazza Dante, anche ai residenti e a chi lavora nella zona. Va bene perché così c'è meno smog. In una condizione già di difficoltà del centro storico e del polichinico universitario e in particolare delle strutture ospedaliere, questa cosa genera ulteriormente difficoltà per gli utenti. Soddisfatta della prima giornata, in attesa che il provvedimento si consolidi, l'assessore alla mobilità Anna Donati annuncia la possibilità di alcuni correttivi ai varchi più problematici a ridosso del vecchio policlinico. Io credo che sia comunque una decisione giusta. Io ho vissuto già questa stessa situazione a Firenze molti anni fa e devo dire che a Firenze l'hanno presa in maniera completamente diversa. Oltre all'autobus con le due linee di ANM C55 e C57 a servizio della zona pedonale, da giovedì 16 febbraio muoversi nella ZTL sarà più semplice ed economico anche in taxi, perché entreranno in vigore le nuove tariffe predefinite di 6 e 8 euro per spostarsi verso il centro.